Buongiorno e buona domenica. Oggi farò una cosa che solitamente non faccio, perché sapete benissimo che a me parlare di arbitri annoia. A me piace molto di più parlare di calcio, della partita, degli episodi. Oggi ho necessità di fare una discussione di questo tipo. Tanto il video post partita del giorno dopo lo riserviamo molto spesso alle parole dei protagonisti, soprattutto dell'allenatore della Juventus. Oggi Tiago Motta non è andato tanto distante da quella che è l'analisi che ho fatto anche nel post partita a caldo, cioè c'è da migliorare. Si poteva fare meglio in determinate situazioni, lui vuole portare a casa il risultato attraverso la prestazione. Tutti i concetti che abbiamo già analizzato. Mi sembrerebbe semplicemente di andare a perdere tempo cercando di ricalcare con la carta a carbone quella che è stata la conferenza stampa di Tiago Motta. Vorrei invece parlare di un post partita che ho sentito ad Azon, ma non da parte di un giocatore, non da parte di un allenatore, bensì da parte del direttore della Lazio, Fabiani, che ha discusso su una tematica in particolare che per quanto a me non piaccia parere di arbitri, mi sta molto a cuore. Questa credo che sia la tematica più importante e più interessante in assoluto relativa a quelli che possono essere gli arbitraggi in Serie A, e cioè l'utilizzo del VAR. Perché Fabiani arriva e la prima cosa che dice è Complimenti alla Juventus per aver vinto la partita. Complimenti all'arbitro che per me ha fatto un'ottima partita. Però sicuramente l'utilizzo del VAR va modificato. E perché dice questo? Beh, Fabiani all'interno di un discorso che per me è pienamente condivisibile fa un errore. Un errore molto grosso. E cioè va a dire che, secondo lui, Douglas Lewis è reo di aver rifilato un pugno al difensore della Lazio, Patrick. Ora, io ho riguardato quell'episodio a più riprese da tutte le angolazioni che ci sono state fornite da Zon, che ha trasmesso la partita, e no, non mi è mai sembrato di vedere Douglas Lewis rifilare un pugno a Patrick. Si tratta di una gomitata. Douglas Lewis dà una gomitata energica all'avversario. Questo è il cartellino rosso? Ecco, qui si può aprire la discussione. E per quello che vale, ma è semplicemente la mia opinione, quello non è un cartellino rosso. Quello è un episodio che Douglas Lewis non solo poteva, ma doveva evitare. E si tratta, come è stato revisionato poi al VAR, perché il VAR ha fatto un controllo su questa cosa, ed è stato battezzato, come ha spiegato Marelli, sempre da Zon, come comportamento antisportivo. Quindi non violento, antisportivo. L'antisportivo viene punito con il giallo, solitamente, ma il VAR non può intervenire per un cartellino giallo, e quindi Douglas Lewis se n'è uscito con la fedina penale pulita. Poteva essere invece una condotta violenta? Beh, qui entriamo nel soggettivo. Perché, come abbiamo detto, il VAR ha fatto un check, ha fatto un controllo, ha visto che per loro non era una condotta violenta, bensì una condotta antisportiva, e quindi non valevole l'intervento VAR per punire con il cartellino rosso diretto. Però qui è opinabile. Questa è la mia posizione, questa è stata la posizione del VAR. Non significa che se per qualcuno quello invece è un intervento da cartellino rosso si vada a parlare di bugia, cassata o robe del genere. Proprio perché non stiamo parlando di qualcosa di oggettivo. È qualcosa di cui possiamo discutere. Ora, io sono completamente d'accordo col direttore dell'Alastia, al 100%. Perché per me la grande discussione relativa al VAR è sul protocollo del VAR. Perché lui ripete ancora una volta, non sono venuto qui a piangere perché ho perso la partita, anzi, ancora complimenti alla Juve, ancora complimenti all'arbitro. La Juve ha vinto la partita, avrebbe vinto la partita, complimenti all'arbitro, la gestita molto bene. Però perché questi episodi non vengono chiamati all'attenzione dell'arbitro? E io nel post partita caldo vi ho detto una cosa molto importante, proprio su questa tematica. E cioè, che per me ha fatto benissimo l'arbitro, in occasione del Rosso Romagnoli, a far giocare. Non vedi? Non sei sicuro? Non ti preoccupare? C'è il VAR che ti richiama. In occasione di questo intervento di Douglas Lewis, antisportivo o violento, mettetecelo voi, scrivetemi la vostra opinione qui sotto nei commenti, ma poco sposta perché secondo me l'errore è proprio alla base, l'arbitro non l'ha visto, era girato. Quando si volta nuovamente, si trova Patrick a terra e non sa il perché. Non viene richiamato al VAR perché in sala VAR vanno a considerare l'intervento antisportivo. E allora io dico, ha ragionissima il direttore della Lazio, ha super ragione, perché utilizzato così il VAR non ha alcun senso. Chi è che arbitra? Il VAR o l'arbitro? Perché se l'arbitro non ha visto, deve avere la possibilità di rivedere. E non può essere il VAR a giudicare antisportivo o violento, e la differenza è giallo o rosso, ma se è giallo non può neanche intervenire, non lo può munire. È l'arbitro che deve decidere se è giallo o rosso. Quindi per me questi episodi comunque devono essere segnalati all'arbitro, devono essere richiamati all'attenzione dell'arbitro. L'arbitro deve andare a vedere e decidere lui, come ha fatto in occasione del rosso per Romagnoli. E' andato a vederlo lui, ha deciso lui se quello era un intervento da ultimo uovo meritevole di rosso oppure no. E allora c'ha ragione il direttore della Lazio andare a fare un tipo di comunicato del genere ai microfoni. Sbaglia palesemente nel dire che quello è stato un pugno, perché può essere opinabile e soggettiva la lettura condotta violento, condotta antisportiva, era da rosso, era da giallo, ma di pugno non possiamo parlare. Di pugno non possiamo assolutamente parlare. Quello è l'unico errore del direttore della Lazio ed è un errore importante, perché tu vai a rappresentare la società Lazio e vai a dire una cosa che non è avvenuta. Però per tutto il resto io sono d'accordo al 100%. Poi entriamo sull'argomento Douglas Lewis, perché Douglas Lewis per quanto io vi abbia detto no per me quello non è da rosso diretto, andava espulso. Ma non in quell'occasione, semplicemente quell'intervento che poteva essere condotta antisportiva come è stata valutata era da cartellino giallo. E Douglas Lewis qualche minuto dopo, credo 4-5 minuti dopo, su Rovella fa un nuovo intervento, che anche in quel caso non viene considerato da rosso diretto, e per me quello non è da rosso diretto, ma si pia il cartellino giallo. Ora, Douglas Lewis veniva da due partite in cui ha procurato due rigore di fila. Quindi dal punto di vista dei danni relativi a dei falli, eravamo già belli che pieni, belli che saturi. Col Cagliari entra e fa quell'intervento che per me è super evitabile. Io con l'Ipsia non posso dargli colpe, perché entra freddo, va in barriera, si muove, prende una palla con il braccio. Lì, non gli posso dire niente. Ma col Cagliari sceglie di fare quell'intervento. Con la Lazio, ieri, con Patrick, sceglie di fare quell'intervento. E allora io voglio dire, ma per quale motivo? Cioè, non riesco veramente a comprendere perché Douglas Lewis debba fare determinate cose. Che motivo c'era di caricare il colpo e andare a dare il colpo a palla lontana a un calciatore avversario che qui è andata bene perché l'arbitro non ha visto, quindi non si è beccato il giallo o il rosso a seconda della lettura dell'arbitro. Il VAR non l'ha ritenuto un comportamento violento e quindi non è potuto intervenire e non si è nemmeno beccato il giallo. Ma se l'arbitro avesse visto e interpretato come colpo da cartellino rosso, che cosa gli potevi dire? Nulla. Perché è giusto che l'arbitro che decida la discrezione dell'arbitro sulla decisione. L'evento sarà ancora sullo 0-0. Andavi ad annullare il tuo vantaggio e magari non andavi nemmeno a segnare il gol dell'1-0 con l'autogol di Ghila. Non lo possiamo sapere. Assolutamente non possiamo saperlo. E allora io mi chiedo, ma per quale motivo? Cioè, che cosa c'è nella mente di Douglas Lewis che a un certo punto gli fa fare determinate azioni che sono tranquillamente evitabili? Guardate che questo è un tema, eh. perché, ripeto, fosse una cosa così a caso, ripeto, con l'Ipsi io non gli ho potuto dire nulla. Col Cagliari ce l'ho avuto qua per tutta la sosta nazionale con l'intervento, tant'è che l'unico gol che ha subito la Juventus in campionato in questa stagione è che ci ha fatto lasciare due punti per strade importantissimi, veramente importantissimi, perché quei due punti in più sarebbero stati fondamentali. Allora io voglio dire, ma lavoriamo su questa roba qui, perché questi sono interventi che Gatti stesso, negli anni precedenti, ogni tanto tirava fuori. E io sono davvero convinto che sia necessario lavorare su questi giocatori dal punto di vista della testa, perché questi sono proprio momenti in cui si scollega il cervello. E vorrei capire da cosa siano dettati, dalla frustrazione, perché aveva sbagliato quel gol, perché non aveva inquadrato la porta, ma bisogna lavorare sul gestire la rabbia, sul gestire le azioni, perché se poi ti danno il rosso in quell'occasione lì, che ripeto, per me non è da cartellino rosso, ma per me, se per l'arbitro fosse stato da rosso, se per il VAR fosse stato da rosso, richiamato l'arbitro, assegnato il rosso, cosa potevi dire? Zero. Niente. Assolutamente nulla. Perché è la tua lettura soggettiva contro quella che è un'altra lettura soggettiva di chi però arbitra la partita. E se ancora solo 0-0, non è sbloccata la partita, e magari non la vinci. E sono altri due punti che lasci per strada. E quindi io, su Douglas Lewis, vorrei veramente capire, perché esco proprio dal discorso legato alla tattica, a quella che può essere una prestazione, poi ne parleremo nelle pagelle. Ma queste cose qui sono quelle cose che cambiano le partite. Sono quegli episodi che cambiano i risultati e quindi cambiano le partite se le partite sono in equilibrio, se le partite sono ancora da sbloccare o comunque non chiuse. Quindi, occhio a sottovalutare questa cosa qui e secondo me la Juve farebbe bene in essere a lavorarci prima di subito. Perché una volta è una coincidenza. Due volte. dici, vabbè, dopo tre volte deve quantomeno accendersi un piccolo campanello d'allarme. Sono curioso di sapere la vostra opinione sul Vare, su Douglas Lewis qui sotto nei commenti e noi ci vediamo oggi pomeriggio per le pagelle di Juventus Lass 1-0. Ciao.